Eder, Mech, Pallister. Volontario dopo una breve fuga. Catturato dai carabinieri mentre si trovava in auto a Pabillonis, le indagini preliminari indicano che il delitto sarebbe avvenuto al termine di una leite per motivi apparentemente insignificanti. La scoperta del corpo è stata fatta da un altro figlio della vittima, che al suo ritorno a casa ha trovato la madre con evidenti segni di percosse. La scena del crimine mostrava una violenta devastazione dell'ambiente domestico. L'autopsia, da eseguirsi all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Monserrato, chiarirà le dinamiche e le cause esatte della morte di Maria Azzenni. La comunità locale, rappresentata dal sindaco Carlo Tomasi, ha espresso cordoglio e attesa per gli esiti delle indagini, ricordando la vittima come una persona mite e ben voluta. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale! Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!